Sarebbe di oltre 20.000 euro la cifra che un uomo ha sottratto alla nonna, con la complicità della madre, per poi giocarli alle slot machine. La storia è finita ieri in tribunale e a sedere sul banco degli imputati, un uomo accusato di circonvenzione di incapace e di appropriazione in debita ai danni della nonna e dello zio non più viventi. I fatti risalgono al 2013 e per queste vicende, con le stesse imputazioni, la madre dell'imputato ha già patteggiato due anni e otto mesi. L'uomo si è sempre difeso dicendo che lui non ha portato via nulla. Ieri ha deposto davanti al giudice una parente delle vittime, la quale ha spiegato di aver aiutato l'anziana a gestire i risparmi fino a quando in questa gestione è subentrata la madre dell'imputato. La situazione di disagio era stata segnalata anche dall'avvocato dell'anziana signora in qualità di amministratore di sostegno. Gli accertamenti effettuati dai carabinieri hanno portato a stabilire che all'anziana non sarebbero state pagate le bollette e che complessivamente le somme sottrate dall'imputato e da sua madre sarebbero state di oltre 20.000 euro. I prelievi sarebbero stati compiuti grazie a deleghe per il ritiro della pensione. In particolare, le deleghe per i prelievi di somme sia sui conti della nonna che dello zio avrebbero dovuto servire per il pagamento di bollette, canoni di locazione e per acquistare il minimo necessario ai bisogni di vita dei due anziani. Queste necessità non sarebbero state soddisfatte e le indagini consentivano di appurare prelievi di circa 7.000 euro in soli due giorni, il 18 e 19 marzo 2013, e pagamenti in una nota sala slot cittadina di 2.000 euro nel solo giorno del 18 marzo.